Cominciamo dalla base Sciolgo il cioccolato a bagnomaria Aggiungo il burro Tengo un attimo da parte e frullo i biscotti Unisco il cioccolato e mescolo bene Trasferisco il composto sul fondo di un anello posto su un foglio di carta forno E lo presso bene Lascio assodare in frigo per 30 minuti E ora mi dedico alla crema In ciotola lavoro il formaggio fresco con estratto di vaniglia, zucchero a velo e panna A parte scaldo altra panna Aggiungo la gelatina e la lascio sciogliere Unisco il resto della crema E per renderla ancora più golosa ci sbriciolo dentro altri biscotti Amalgamo bene E trasferisco sulla base ormai rassodata In livello con una spatola E lascio rassodare in frigo per almeno 4 ore Una colata di cioccolato e la nostra torta biscotto è pronta Buon appetito! Mmm Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!